All'inizio dello sviluppo della Urus una delle più grandi sfide era quella di riuscire a trasferire il DNA di una supersportiva Lamborghini in quello che doveva essere il DNA di una SUV Lamborghini, della Urus in particolar modo. Le linee della Urus hanno tutto quello che è l'heritage delle nostre supersportive, hanno i design criteria tipici di una Lamborghini e la ricordano in tutte le forme. Altra cosa importante indubbiamente è il sound della vettura che cambia principalmente nei tre diversi modi strada, sport e corsa. È un sound molto elegante in strada e diventa sempre più aggressivo passando tra sport e corsa provocando tutte quelle emozioni che si hanno quando si va a guidare una Lamborghini.